Grazie per questo bellissimo premio che arriva forse nel momento migliore. Porca miseria! Che sei una merda! Ma quanto tempo! Siete lì? A me signor, mai sentito? Periscatelo! Mi mandate in un'ambulanza. Te da vicino sembra molto più anziano. Grazie. Cos'è? Performance? No, è proprio che l'hai miscita qui. Ma mi diceva che avete la stessa età. Sì, siamo uguali. Luce! Muro! È una cagata passetta! Bravo, bravi. !